ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlare di pop babies che mi ha mandato questo fantastico frullatore portatile che si ricarica con il cavo usb è fantastico perché adesso in questa stagione estiva mi piacciono molto fare frullati freschi con la frutta fresca ed è molto bello perché io ho scelto questo colore rosa qui abbiamo il bottoncino come potete vedere è abbastanza forte qui abbiamo il bottoncino per caricarlo tramite cavo usb e qui la particolarità che questo e questo frullatore diventa anche una borraccia portatile e quindi si va a lavare poi soltanto questo a questa borraccia perché poi questo è il motore che comunque non si lava perché sennò si va a rompere la batteria all'interno ed è molto comoda e anche di vetro ed è molto bella da portare anche in palestra ma anche in giro comunque in borsa ha una capienza di mezzo litro e adesso faccio vedere come faccio un frullato ecco qua una volta pronto si può bere direttamente dalla borraccia versare direttamente sul bicchiere il nostro frullato inoltre vi ricordo che all'interno di questa confezione troviamo il cavo usb e anche questo stampo per poter fare i ghiacciolini di frutta e oltre alla borraccia anche il motorino in dotazione ringrazio ancora pop babies